buongiorno buongiorno a tutti a tutte le persone legate oggi qui con noi sono gabriella belli direttore della fondazione dei musei civici di venezia e oggi inauguriamo un nuovo modo di dialogare di parlare con il nostro pubblico un pubblico molto speciale per noi perché il pubblico che è collegato alla nostra vita alla vita del museo alle nostre ed è legato attraverso questa move frank card che per noi costituisce un vero legame con con il con i nostri visitatori un legame molto speciale la move frank card è stata istituita tanti anni fa io ricordo ero appena arrivata venezia era all'incirca il 2013 14 e questa move frank card in tutti questi anni è cresciuta ha avuto un buon un grande riscontro i nostri i nostri visitatori speciali sono sempre di più e in questo momento noi vogliamo proprio ricominciare da voi vogliamo ricominciare da voi perché consideriamo il il tempo che abbiamo alle spalle e forse anche un po del tempo che abbiamo davanti un tempo complicato e quindi credo che come in questo momento le famiglie si riuniscono cercando di trovare una solidarietà con gli amici ecco anche noi vogliamo trovare ritrovare gli amici e ricominciare il nostro racconto il nostro lavoro l'esercizio quotidiano della nostra professione proprio attraverso questo dialogo questo rapporto con il gruppo delle persone legate a alla fondazione dalla move frank card è stato un anno decisamente complicato difficile e devo dire anche che quando si dicono queste frasi che non sono mai frasi che sono frasi profonde perché in questa straordinaria eccezionale orrenda pandemia diciamo che ci siamo tutti trovati sullo stesso piano quindi quando io dico un anno difficile tutti voi capite benissimo che cosa significa un anno difficile perché per tutti è stato davvero un anno terribile un anno fatto di altalena un anno altalenante alti e bassi momenti in in cui si pensava che le cose avrebbero trovato una soluzione vicina altri momenti in cui tutto veniva negato e si doveva ricominciare da capo la fondazione che è un ente pubblico di proprietà pubblica ma è un ente autonomo di diritto privato ha subito questo questo anno molto complicato e anche la vita della fondazione è stata una vita di fatta di alti e di bassi a regime ridotto però la fondazione ha lavorato ha costruito ha messo a fuoco progetti e programmi e siamo qui in questo momento proprio pronti a riattivare i nostri motori sperando che da questo inizio fine aprile inizio maggio possa uscire solo del bene per il mondo delle attività culturali per il mondo della cultura speriamo che in questo nuovo percorso che ci si prospetta davanti non ci siano più delle chiusure e diciamo speriamo soprattutto che le persone possano rientrare ovviamente nella consuetudine di frequentare i nostri i nostri musei io ringrazio tutte le persone che sono collegate perché per noi è un momento significativo anche perché dobbiamo pur dirlo che questa pandemia ci ha insegnato molte cose ha reso il nostra la nostra vista della della nostra attività più acuta e ovviamente ci ha anche insegnato che dovevamo assolutamente mettere in cantiere mettere in essere nuove modalità di dialogo e di collaborazione tra di noi prima di tutto tra musei musei del mondo ma soprattutto con il nostro pubblico un pubblico che noi eravamo abituato abituati a vedere entrare a numeri molto alti voi lo sapete nel 2019 pensate è stato l'anno in assoluto migliore dal punto di vista proprio delle presenze pensate quindi noi abbiamo avuto un anno fantastico straordinario e tutto e nulla dava pensare che sarebbe successo quel che poi è successo e pensavamo che quei numeri straordinari raggiunti oltre due milioni e mezzo oltre due milioni e trecento mila persone di visitatori avrebbero forse continuato ad essere la nostra diciamo la no il no la nostra base il numero perfetto per poter far funzionare le nostri i nostri dodici musei nel migliore dei modi devo anche dire a questo proposito volevo fare condividere con voi una riflessione che quando si parla della degli eccessi del pubblico dei flussi a venezia beh noi dobbiamo però dire che se si calcola in circa 20 milioni il pubblico che arriva a venezia noi riusciamo ad intercettare o diciamo meglio a interessare di questo numero circa due milioni 2 milioni e 200 mila annuali che è un numero molto buono che è un numero che non 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 è un numero di affollato è un numero molto interessante perché di questi circa 2 milioni e 200 mila noi sappiamo che circa 600 mila 6 700 mila sono tutti legati ai musei come carezzonico capesa romocenigo vetro merletto storia naturale eccetera mentre certo la fetta più grossa è ovviamente del ducale ma il nostro problema non è mai stato l'affollamento qui lo devo proprio dire nei musei grazie a un lavoro straordinario sia del gruppo della guardiania delle nostre cooperative che gestiscono i servizi e soprattutto dei tecnici che presiedono al a questa parte diciamo questo questa parte della nostra attività e quindi al controllo dei flussi del pubblico noi in tutti questi anni non abbiamo mai assoluto diciamo patito il l'eccesso del pubblico certo la città quando poi uscivi non c'è di non c'è da dire che non fosse affollata dico questo perché dal nostro punto di vista benvenga se si potrà in futuro riportare di nuovo a livelli importanti l'afflusso del del pubblico perché sapete c'è un fatto per chi dirige e lavora all'interno dei musei e cioè che tu puoi creare il più bel progetto il più bella la più bella mostra il restauro migliore ma se poi il pubblico non ti dà risposte importanti beh questo diciamo cade nel vuoto e la cultura prima di tutto è dialogo è relazione è relazione tra le persone è relazione e scambio di contenuti quindi una cultura senza pubblico diciamo è assolutamente la negazione del termine stesso di di cultura quindi vedete che oggi noi ci siamo avviati anche su una strada questa degli dei webinar abbastanza nuova non come modalità oggi abbiamo potuto misurare in questi mesi di pandemia un po in tutto il mondo la crescita esponenziale dell'utilizzo del digitale all'interno delle strutture culturali e anche noi abbiamo capito che eh in qualche modo eh la una 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 collegamento un rapporto una relazione ehm digitale poteva essere una possibilità nuova prima di tutto per imparare noi perché eh ogni volta che ci avviamo su un sentiero nuovo e tracciamo una nuova strada i primi eh a eh dover e voler sperimentare siamo noi e poi sicuramente per capire se ci sono nuovi ambiti appunto per aprire nuovi dialoghi noi abbiamo quindi immaginato mh e e molto ragionato al nostro interno in questi mesi proprio sulla necessità in qualche modo di creare a fianco di del move quello che voi conoscete i nostri musei le visite gli incontri la la fruizione soprattutto del patrimonio che questo è il nucleo centrale della nostra missione beh una specie di clone una specie di parallelo di move parallelo che è move online e di questo abbiamo eh come dire eh pensato immaginato abbiamo eh quindi ci siamo messi a ripensare completamente tutti gli strumenti che fin qui avevamo adottato e se nel nel marzo aprile dell'anno scorso noi che avevamo sempre privilegiato l'aspetto eh attivo di partecipazione attiva all'interno delle nostre dei nostri musei da quel momento in poi noi abbiamo voluto aggiornare tutti i nostri gli strumenti con cui dialoghiamo con il pubblico per questo non è che pensiamo assolutamente a sostituire o a sostituirci eh con questo mezzo eh che in qualche modo sicuramente è più freddo di quello che è l'accoglienza calda che possono darvi i nostri musei ma pensiamo che sia qualcosa in più qualcosa che si aggiunge alla storia e che viene a stratificarsi accanto alla storia più tradizionale che è legata sempre alla fruizione diretta del patrimonio allora per esempio stiamo lavorando moltissimo con il gruppo della comunicazione al ripensamento del nostro sito internet anche questo è un esercizio molto importante tra qualche mese voi andando sul sito per avere delle informazioni troverete un sito che si è aggiornato e quindi anche sul sito voi troverete per esempio queste lezioni che e questi incontri che adesso stiamo attivando li troverete tutti in questo archivio online importante perché bisogna anche imparare sempre più a tesaurizzare questo mondo digitale che è un mondo quasi apparentemente immateriale che sembra sfuggire tutto sommato che sembra consumarsi nel giro dei pochi minuti o delle ore che in cui eh si attivano questi strumenti ma che noi invece vogliamo andare via via tesaurizzando insomma in qualche modo stiamo cercando di duplicare un certo tipo di iniziative di attività culturali e duplicare attraverso il il digitale questo per non trovarsi impreparati qualora e speriamo mai dovesse succedere qualche altro evento catastrofico come questo ma diciamo soprattutto per aggiornare e per poter in qualche modo stimolare o avvicinare un numero sempre maggiore di pubblico anche quel pubblico che per cause personali non può per esempio muoversi anche quel pubblico che ha difficoltà a raggiungere venezia o appunto quel pubblico più giovane che non è strettamente interessato alla visita dei musei ma magari è interessato a degli argomenti i giovani giovani sono ovviamente al centro della nostra attenzione perché sappiamo bene che in questo mondo appunto del del digitale loro sono dei numeri rispetto alle esperienze che noi possiamo nella nostra diciamo formazione più accademica più tradizionale pensare e immaginare però noi quindi riteniamo che aggiornare i nostri strumenti di comunicazione possa essere davvero una cosa molto importante per avvicinare anche questo mondo dei ragazzi dei giovani dei giovani adulti che forse attraverso argomenti interessanti e stimolanti possono in qualche modo sentirsi più vicini anche al ai nostri musei ai loro musei perché il patrimonio immenso che noi gestiamo è un patrimonio un pochino di tutti i veneziani un patrimonio del mondo in ogni caso all'interno di questo nuovo progetto e di questo move che si sta rinnovando citavo prima il sito e quindi appunto fra alcuni mesi voi troverete un architettura del sito molto ampliata molto aggiornata ecco abbiamo deciso di iniziare proprio con le move frank art quindi con gli amici più intimi si potrebbe così dire questa avventura con i webinar che sono diciamo questi incontri che abbiamo immaginato a scadenza regolare e che verranno a tenervi un po' a compagnia per raccontarvi aspetti in maniera approfondita che riguardano il patrimonio del museo la gestione le strategie ma ci amplieremo anche a progetti più più larghi con incontri con altri direttori di museo incontri che possano essere e mettere in luce delle appunto delle nuove indicazioni che riguardano la storia dell'arte come diciamo contesto generale ma anche più in dettaglio gli approcci storico storiografici gli approcci storico artistici anche alle volte i problemi che riguardano semplicemente l'installazione di un'opera d'arte il restauro di un'opera d'arte insomma sarà molto varia la proposta che noi andremo a fare e diciamo che in prima fila vorremmo sempre che ci fossero gli amici amici del museo come un benefit naturalmente per la fiducia che in tutti questi anni hanno dimostrato continuando a sostenerci ma anche come un benefit che possa essere ragionevolmente attrattivo per nuovi soci per nuovi amici che vogliano collegarsi sistematicamente con noi e usufruire di una serie di benefit che voi conoscete e che adesso alla riapertura dei musei diventeranno finalmente di nuovo fruibili. Volevo raccontarvi quindi questa cosa ed è per questo che io introduco in qualche modo questa questa serie di webinar che avranno appunto come dicevo prima una loro regolare attivazione a partire dalla settimana prossima da martedì da martedì 4 maggio alle ore 16 e volevo raccontarvi anche che la fondazione proprio in questa sua in qualche modo duplicazione o allargamento di interessi culturali sta anche sviluppando una grande attenzione per delle micro delle micro clip che riguardano il tema del del patrimonio storico artistico artistico e tutta una serie di nuove di nuove interessanti attività che mano a mano vi andremo a presentare. I temi che abbiamo scelto mettono in evidenza ovviamente delle peculiarità delle nostre collezioni. Qui vedete una delle più poderose sculture che oggi si conoscono uno dei più grandi scultori europei tra la fine dell'ottocento e del novecento. Vi dico che è una scultura cui tra l'altro io sono particolarmente affezionata e certo per il suo valore artistico ma diciamo che per me questa scultura ha anche rappresentato una delle più grandi sfide professionali. quando sono arrivata a Venezia alla fine del 2011 all'inizio del 2012 questa scultura stava al secondo piano di Capesaro ed era collocata lì da tantissimi anni direi da alcuni decenni ed era stata in qualche modo assorbita all'interno del percorso temporaneo delle mostre temporanee di Capesaro. era un fatto abbastanza curioso. Io sono un museografo, mi occupo di allestire i musei, di dare coerenza, di dare narrazione, racconto ai musei. Quindi il mio lavoro principe è quello proprio di lavorare sulle collezioni, riordinarle e via via col tempo anche rinnovarle, rinnovare i linguaggi, rinnovare i legami tra le opere d'arte le une con le altre, scambiando spesso anche i ruoli delle opere d'arte. La storia dell'arte è un grandissimo racconto che si fonda soprattutto sui dialoghi, si fonda sui dialoghi, sul superamento del vecchio verso una visione del nuovo, si fonda sui cambiamenti di stile, si fonda sulla capacità degli artisti di inventare qualche cosa di nuovo che non esisteva prima. Quindi le collezioni, anche quelle antiche, possono continuare a sprigionare la loro forza e la loro energia evocativa, storica, in qualche modo passionale, emotiva, alle volte semplicemente cambiando di posizione da una sala all'altra in confronto con o in dialogo con dei teleri o con dei freschi, in confronto con un rivale dell'autore o con un amico dell'autore. Insomma i racconti sono molteplici. Quindi quando io ho arrivando a Venezia ho incominciato a ripensare all'allestimento di Capesaro che era stato restaurato all'inizio, alla fine, all'inizio degli anni duemila ma che era un museo in qualche modo che per me, che venivo da un'esperienza del Mart in cui avevo avuto mano libera diciamo a ricostruire completamente una storia del novecento, mi sembrava piuttosto diciamo non solo ambiguo ma poco, un museo poco emozionale, poco empatico e insomma ammirare questo capolavoro è una grande scultura, voi la vedete qui ma è una scultura che ha una base molto importante, più di quattro metri di base questa scultura, vederla relegata al secondo piano e in qualche modo anche disdegnata quando arrivavano i grandi big contemporanei a esporre, beh mi faceva soffrire. Quindi un giorno misi come condizione davvero essenziale quella di trasferire questa curiosa, meravigliosa, straordinaria scultura, attenzione è un gesso di una fragilità incredibile, misi come condizione per la riapertura della collezione permanente del primo piano di Capesaro quella di trasferire l'opera dal secondo al primo piano. Vi confesso che è stata l'esperienza, forse l'esperienza più più audace della mia vita ma anche quella che mi ha veramente da un lato entusiasmato ma dall'altra parte anche seriamente preoccupata. Io che in genere sono sempre una persona che affronta i cambiamenti con 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 spirito leggero insomma perché amo il cambiamento amo amo le cose che che davanti a me si trasformano e quindi quel giorno fatidico in cui decidemmo di trasferire quest'opera meravigliosa beh fu una giornata molto faticosa e qui imparai una cosa molto bella di Venezia cioè imparai la professionalità straordinaria delle maestranze che lavorano a Venezia venendo dalla terra ferma non ci si rende assolutamente conto di quante difficoltà le ditte che si occupano di trasporti installazioni trasferimenti di opere d'arte quante difficoltà devono quotidianamente incontrare e quanto devono essere migliori di altri professionisti che lavorano con l'agio della terra ferma con l'agio degli ascensori con l'agio di una scala che che si possa percorrere facilmente la scultura è scesa imbracata con una imbragatura veramente straordinariamente realizzata in cinque ore siamo scesi per le scale con questo che si chiama questo questa specie di piccolo carro armato che scende lentamente le scale e scendemmo con gli occhi veramente terrorizzati ma col cuore straordinariamente felice perché finalmente questa scultura entrava a tutto diritto nella storia delle collezioni di Capesaro di questa scultura vi racconterà molto bene elisabetta barisoni lei è la responsabile di Capesaro della nostra galleria internazionale d'arte moderna e sarà la prima eh tra i curatori della fondazione a parlare a dialogare con voi vi ricordo questo appuntamento che è un appuntamento importante perché dietro a questo episodio diciamo da backstage eh lei ci rivelerà davvero tutte le meraviglie non solo della scultura ma anche della storia di questo straordinario eh scultore francese di cui tra l'altro e ve lo ricorderà noi possediamo un altro pezzo importante che è un'icona diciamo della della sua opera il pensatore accanto a questa eh dopo questo webinar noi avremo un secondo appuntamento sempre legato alla pittura è la pittura del 600 e questa sarà il martedì successivo sarà Daniele Danza conservatore di Carezzonico del nostro museo del 700 a parlarvi di questa eh di questa scultura di questa opera scusate di questa pittura così importante che eh si trova nelle nostre collezioni ma vi parlerà in particolare di Joseph Heinz il giovane questo pittore eh molto ehm un pittore diciamo di cui Venezia si è a lungo giovata un pittore che eh rientra diciamo in questa pratica della pittura forse alchemica legata a degli elementi sicuramente curiosamente quasi stregoneschi che eh poi viene a raccontare attraverso una iconografia e una un racconto e lo vedete già da questo primi di primissimo eh primissima visione questo primissimo dipinto un racconto eh che si snoderà nel nella Venezia eh del del 600 questa eh li chiamavano i tenebrosi li chiamavano eh dell'uomo dei pittori stravaganti li chiamavano streghe stregoni che si occupavano di pittura insomma un capitolo molto interessante non dimentichiamo non dimentichiamo che eh Venezia eh è raggiunto alcuni se un secolo prima era raggiunto uno straordinario lavoro di Ieronimo Bosch che per tantissimi anni anzi diciamo fino ad anni recentissimi primeggiava nella quadreria di Palazzo Ducale. Ecco dopo questo appuntamento di martedì undici maggio ecco andiamo in un tema totalmente diverso e parleremo degli uccelli di città. Vedete quanto è bello essere amici della fondazione dei musei perché qui eh voi potete davvero mh toccare con mano la complessità non solo della storia dell'arte ma in questo caso anche della storia naturale ma diciamo la complessità la la ricchezza di un patrimonio quello appunto dei nostri musei che varia da oggetti a eh dei dei più straordinari dei più diversi la differenza diciamo la differenza che è una delle ricchezze della cultura la differenza dei materiali eh che eh che compongono la collezione della fondazione dei musei civici. Ecco quindi che gli uccelli di città eh vi potranno portare vicino in questo caso non eh alla natura eh dipinta ma alla natura vera. È stata un'esperienza straordinaria portata avanti dal nostro museo di storia naturale e Mauro Bon è il responsabile di questo progetto e qui ricordo anche che Mauro Bon avrete modo di incontrarlo non solo in caccia di questi straordinari uccelli di città ma avrete modo negli anni a venire a incontrarlo anche eh come responsabile delle nostre attività educativo un settore importantissimo che voi sicuramente conoscete perché avrete appunto avuto modo di frequentare le nostre i nostri musei e quindi di avere anche con eh con le attività il dipartimento delle attività didattiche per guide per laboratori avrete avuto modo di conoscere eh questo settore. Ecco Mauro Bon da un anno circa è il nuovo responsabile del settore e venendo da una cultura una formazione eh di storico naturalistica naturalmente ha portato anche uno sguardo diciamo pure anche diverso nei confronti delle nostre attività uno sguardo possiamo dirlo forse più scientifico sì forse possiamo dirlo ma sappiamo anche che l'umanesimo e la parte scientifica insomma quando si incrociano sono veramente eh diciamo dei degli valori fondanti della nostra storia eh di persone. Ecco questo tema degli uccelli di città è stata appunto questa esperienza di osservazione a cui hanno partecipato i cittadini un'esperienza che ha dato tantissima soddisfazione in questi momenti terribili di lockdown ha coinvolto comunque l'attenzione delle persone a capire che il problema del clima che il problema della vita mh naturale diciamo all'interno del del tessuto urbano è un problema importante di cui noi dobbiamo parlare e soprattutto eh un tema che ci sollecita ad una protezione e a una sensibilità verso i cambiamenti climatici che quindi incidono sul sistema della della storia naturale molto importante. Ecco diciamo che eh a finire poi questa questa questo primo gruppo di incontri avremo con noi Chiara Squarcina che è un dirigente della nostra fondazione ma in questo caso è anche vi parlerà come responsabile di Palazzo Mocenigo del Museo del Vetro e del Museo del Morletto eh e ultimamente anche con me si sta occupando di Palazzo Fortuni ma diciamo che vi parlerà soprattutto come responsabile di questo meraviglioso riallestimento restauro avvenuto alcuni anni fa eh un eh esattamente verso la fine del duemila verso la fine del eh del duemila e dodici grazie anche qui bisogna dirlo ad un accordo molto importante con la famiglia che sostenne la nascita e la rinascita di questo museo eh di questo questo museo accogliendo all'interno una sezione dedicata al profumo. Anche di questo museo devo dire io ho un ricordo particolare voi mh quando arrivai a Venezia anche qui a nel duemila e dodici fu proprio un tra le persone che incontrai all'inizio fu proprio la famiglia Vidal questi privati che volevano davvero sostenere e allora non c'era ancora l'arbonus che poi negli anni ha aiutato molto questo rapporto eh virtuoso con il privato. Loro avevano immaginato questo progetto di un museo del profumo e noi abbiamo identificato in Palazzo Mocenigo forse il luogo più adatto del resto qui la collezione di tessuti la collezione del tessile appunto ma anche del costume diciamo degli usi e costumi in qualche modo della della vita veneziana rappresentata in quella che è una bellissima magnifica dimora eh di nobili uomini veneziani beh poteva essere davvero affine e devo dire che quando io entrai proprio alla fine dell'undici nel dodici in questo museo beh era un museo tutto sommato triste era un museo con una eh un display un'organizzazione dell'allestimento molto tradizionale che non brillava per luci per scelte per colori eh diciamo anche un po' eh della brain in alcune parti ma perché era stato in qualche modo tra gli ultimi musei che ancora la fondazione non aveva restaurato pensiamo al meraviglioso carezzonico anche qui aiuto restaurato anche con l'aiuto di sei di di Venice International a suo tempo all'inizio del duemila insomma con questi comitati che si stanno dando ancora molto da fare per aiutare e e sostenere le nostre sedi e quando io entrai in questo museo io dissi mi ricordo la dottoressa Squarcina ma io non voglio dirigere un museo così così triste così buio con le luci sbagliate eccetera e ma questo insomma diciamo la storia dei musei lo sappiamo è ciclica probabilmente anche guardando ai grandi musei ai nuovi musei dopo dieci dodici anni quindici anni tutto ha bisogno di qualche momento di innovazione e novità e allora chiamamo Pierluigi Pizzi che io conoscevo da molti anni e che avevo ritrovato torvenendo a Venezia eh perché le sue mani magiche e la sua cultura e la sua sensibilità erano sicura che avrebbero davvero messo in scena nel migliore del modi non solo il patrimonio di Palazzo Mocenigo ma anche eh quello che era il suo destino di diventare anche museo eh con una bella importante sezione dedicata al profumo un unicum nella museografia italiana di cui siamo molto orgogliosi. Ecco questa brevemente è un po' una sintesi di quello che vi racconteranno i nostri i miei collaboratori, i miei colleghi, i nostri conservatori. Voglio ancora raccontarvi alcune cose che forse vi possono interessare per quello che riguarda la programmazione dei prossimi mesi. Voi sapete che quest'anno cade il compleanno di Venezia, 1600 anni dalla sua cosiddetta fondazione 421 ehm fu un voto che venne eh dopo una terribile incendio che devastò l'area di Rialto, quella che allora all'epoca si chiamava Rivo Alto, un incendio terribile che devastò quest'area, un voto, ecco la nascita in qualche modo, la data eh diciamo che per mito, per convenzione possiamo dire oggi noi utilizziamo per rappresentare la fondazione di Venezia. Eh una città che in realtà poi si svilupperà un qualche secolo dopo è il mil è l'ottocento e dieci quando il doge eh partecipazio trasferirà da Malamocco il governo della città anche lui proprio nell'area di Rivo Alto e quindi sono i primi, le prime fondamenta di Palazzo Ducale. Ma sappiamo tutta la storia delle grandi città ma anche delle piccole spesso è affidata ad un mito, è affidata ad una ad un sogno anche che in qualche modo ci porta, porta dal mito dentro la storia eh i destini delle città. Ecco eh questi milleseicento anni sono molto importanti per la fondazione perché noi in qualche modo rappresentiamo e conserviamo e custodiamo con grande cura e attenzione tutto il patrimonio della città di Venezia e quindi in questo momento siamo molto impegnati a realizzare insieme a un gruppo di studiosi italiani, veneziani e internazionali una grande mostra che si intitola Nascite e Rinascite Venezia milleseicento Nascite e Rinascite. Lo dice il titolo, è facile da capire. Cerchiamo di attraversare mil e sedici secoli di storia veneziana guardando eh in particolare ai momenti di crisi e ai momenti di rinascita come tutte le città certo ma in a in Venezia questo è è molto e sta sono stati percorsi eh up and down molto evidenti segnati da elementi e tra tragici, elementi alle volte naturali, alle volte provocati dagli uomini, parliamo delle grandi maree, parliamo delle grandi dell'acqua granda ma parliamo anche degli incendi che hanno devastato spesso parte degli edifici più nobili, più più straordinari della nostra città. Parliamo anche delle sconfitte eh delle dei momenti però di rilancio della città, parliamo della renovazio urbis e nello stesso tempo e quindi del piano eh diciamo del grande piano di rinnovamento di piazza San Marco, parliamo delle procuratie, le procuratie nuove, le procuratie vecchie, il disegno di Napoleone con l'abbattimento della chiesa di San Gimignano ma nello stesso tempo anche una ricostruzione del delle architetture che ci hanno permesso di avere uno straordinario palazzo reale qui in piazza San Marco. Quindi la la mostra percorre naturalmente, sono scelte, percorre i momenti più topici di questa lunghissima straordinaria storia per arrivare fino al giorno d'oggi e sarà naturalmente segnata da una eh da veramente da una presenza straordinaria di patrimonio della fondazione. Questa volta sì, devo proprio dire che noi abbiamo voluto valorizzare prima di tutto il patrimonio della città, il patrimonio dei cittadini. Quindi se verrete a visitare questa mostra che si aprirà il tre settembre a Palazzo Ducale nell'appartamento del Doge, beh potrete davvero misurare con mano la qualità di un patrimonio tanto eh tanto importante quanto spesso anche poco valorizzato perché diciamo pure come tutti i grandi musei del mondo purtroppo la superficie espositiva a nostra disposizione non ci permette sempre di poter esporre tutto quello che si possiede e tante volte si possiedono cose altrettanto meravigliose di quelle che voi potete visitare nei percorsi. Quindi questa mostra è una mostra davvero importante e significativa. Vi raccomando davvero di eh mettervela in agenda. Voi come Move Friend Card lo sapete, avrete anche un trattamento davvero di riguardo perché avrete la possibilità di usufruire insieme ai curatori di una visita guidata eh a ridosso dell'apertura, a ridosso della vernice. Mettetemi in agenda questa data, apertura al pubblico, 4 settembre di quest'anno. Un altro punto interessante che voglio toccare con voi che mi pare eh davvero significativo ma per tutto quello che significa oggi per la nostra città la rinascita di Fortuni è appunto la riapertura del Museo Fortuni. Voi sapete che il Museo Fortuni che è un luogo magico della nostra città forse è anche il luogo più sofisticato diciamo così più più sofisticato ed esclusivo anche diventato per certi aspetti curiosamente diciamo anche nonostante il nostro desiderio di vederlo aperto e e pari agli altri musei grazie all'attività che si è svolta, alla magia di queste stanze, di questo luogo, alla forza di questo temperamento di Mariano Fortuni che ancora si sente un'energia che quando entri in queste stanze la senti ancora vicina, la senti ancora vivo, beh questo è diventato un po' il nostro, uno dei musei preferiti eh di un di un pubblico eh che eh voleva stare magari più riservato che non cercava o che già conosceva tutte le altre istituzioni veneziane, un pubblico che amava l'arte antica ma anche nello stesso tempo che cercava l'eccellenza dell'arte contemporanea. Ecco il museo è stato devastato dall'acqua grande del dodici novembre del duemila e diciannove. Questa è la vera ragione per cui il museo è stato chiuso per lungo tempo. Noi stiamo adesso ripristinando il piano terra che è stato il piano che ha avuto e ha subito i maggiori danni grazie anche questo lo si deve dire ad un art bonus e un contributo importante di di PAM eh che ci sta sostenendo in questo lavoro di restauro. Ma sono stati mesi molto complicati perché la pandemia naturalmente ha bloccato i cantieri, l'impossibilità di intervenire, l'impossibilità di concludere il progetto di restauro e di risanamento, l'impossibilità di mandare avanti diciamolo pure le carte negli uffici, la gente eh che era in presenza oppure che era in smart working, le pratiche, la sovrintendenza, il comune. Insomma anche noi eh pur essendo diciamo eh una fondazione appunto di proprietà del comune abbiamo ovviamente tanti obblighi perché mettere mano ai difficili di questa valenza richiede un grande impegno e anche una grande condivisione con tutti gli organi di tutela perché questo come nel caso di Fortuni qui parliamo di uno degli edifici più straordinari della della Venezia ancora gotica con questa parte al piano terra straordinaria con delle testimonianze antiche importantissime. Ecco quindi adesso voi vedete delle immagini dell'antico Fortuni cioè quello che veramente Mariano aveva pensato e immaginato e che aveva eh realizzato dopo che eh entra in possesso di questa casa verso il mille ottocento novanto. perché vi mostro queste immagini? Vi mostro queste immagini perché nella eh ripensamento eh non tanto dell'attività perché Fortuni rimarrà questo luogo così eh diciamo straordinariamente legato al mondo della sperimentazione contemporanea in dialogo con tutto quello che ha qui adesso davanti ai vostri occhi si si sta aprendo queste immagini meravigliose che ci ricordano appunto tutte le abilità di Mariano Fortuni ecco diciamo che era necessario in qualche modo ripensare questo museo. Il primo punto importante è che abbiamo deciso che questo museo dovrà essere sempre aperto dodici mesi all'anno. Dodici mesi all'anno perché adesso in passato il museo era aperto solo ed esclusivamente nel periodo delle mostre ma c'è un documento un testamento c'è una volontà quindi per noi è molto molto importante che il museo possa essere visitato come casa museo di Mariano Fortuni dodici mesi all'anno. Inoltre l'operazione che noi abbiamo avviato con grande devo dire entusiasmo è stata anche quella di ripensare eh come eh ad una ad una metodologia eh diciamo ad un approccio critico storico più confacente più confacente alla lettura eh dell'edificio perché eh noi ci siamo abituati in questi anni forse a vedere un e e ad amare non non nego anche queste queste ombre queste queste ombre eh di questo palazzo che ci è sempre sembrato un po' troppo decadente un po' troppo crepuscolare ma Mariano Fortuni dobbiamo partire dal presupposto che era un uomo che amava la scienza. Lui era veramente un un uomo eh chiamiamolo così un positivista che aveva una grande un culto della scienza. Non per nulla è un grande sperimentatore uno straordinario sperimentatore anzi direi di più un inventore e nessun inventore può essere crepuscolare anche se come scrive bene nella lapide la moglie Henriette quest'uomo aveva portato qui a Venezia il mondo eh e la pittura spagnola e tutte le suggestioni orientali Spagna Granada è la sua patria dobbiamo sempre immaginare per cui che cosa abbiamo pensato anche guardando queste iconografie ricchissime che dovesse tornare la luce all'interno del palazzo. Questa è un po' come dire la chiave di volta nella rilettura del fenomeno eh Fortuni. La luce che entra da queste settafore meravigliose una su Rio e una su Campo San Beneto e anche una luce che entra di nuovo da tutta una serie di trifore meravigliose che erano state per esigenze diciamo allestitive occultate per tanti anni. Poi il museo troverà il suo mood straordinario grazie a quello che già in parte conoscete ma che sarà molto arricchito da una presentazione molto numericamente e credo anche qualitativamente molto ricca del lavoro di Fortuni del lavoro di Fortuni come pittore ma anche soprattutto del lavoro di Fortuni come inventore. L'invenzione della della carta fotografica l'invenzione delle grandi eh della cupola con cui nel all'inizio del novecento immagina e realizza al teatro La Scala un nuovo sistema di contenimento della scena ma anche una nuova scenotecnica importante quella che poi userà Bayreuth per festeggiare Wagner e poi diciamo una serie di invenzioni che vanno anche nel mondo del femminile dove Riet ha anche e gioca un grande ruolo il mondo del del vestire il mondo della 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 moda dove lui insomma inventa quell'abito meraviglioso il Delfos che non ha legami che non ha corpetti che non ha diciamo lacci e lacciuoli e che quindi in qualche modo libera davvero la donna da tante da tanti vincoli da in cui era eh diciamo per anni era stata contenuta da questi abiti che erano soprattutto quasi quasi delle architetture dei busti rigidi dunque a lui va veramente in questo senso il nostro la nostra gratitudine per essere stato un uomo che ha saputo guardare avanti e così la fondazione attraverso fortuni la casa museo aprirà ad ottobre alla fine di ottobre eh speriamo forse qualche giorno prima qualche settimana prima della fine di ottobre di quest'anno ecco come lui guardava avanti noi vogliamo guardare avanti perché in questo momento noi ci rendiamo conto che la riapertura dei musei e tornare a immergersi nella cultura è davvero qualcosa che ci è mancato ma qualcosa che continuerà ad animare e le nostre giornate che sono sicura saranno davvero migliori di quelle che ci siamo lasciati alle spalle vi ringrazio grazie a tutti spero che questa chiacchierata molto informale eh vi sia interessata io spero che ci rivedremo vorrò con voi anche affrontare come dicevo prima tanti temi nuovi e ed è una specie di numero zero io sono stata prescelta per affrontare eh prima di tutti questo questo mondo nuovo che però ci sta davvero entusiasmando grazie tantissimo ai ragazzi e alle ragazze della comunicazione che mi stanno supportando in questo momento grazie a tutti Grazie a tutti